buonasera a tutti e bentornati a questa nuova puntata di leggermente dopo avervi presentato qualche puntata fa l'attività del mercalibro che abbiamo rilevato da gennaio oggi abbiamo deciso di dare voce e spazio ad una bancarella storica presente al mercalibro da diversi anni la bancarella dei coniugi marchesi giovanna e roberto ed è per questo che abbiamo il piacere di avere qui stasera con noi signor roberto buonasera buonasera e grazie per l'invito grazie a lei allora roberto possiamo darci del tuo assolutamente sì 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 praticamente facciamo la stessa professione oramai è un po' vero nel senso che il grande punto in comune è la passione per i libri e anche in particolar modo del libro usato che è una sua filosofia io vorrei chiederti prima di tutto da quanti anni fate parte con la vostra bancarella del mercalibro allora qui ci vorrebbe la memoria dei dei giovani che non ho più comunque diciamo che noi frequentavamo il mercalibro i primi anni come curiosi come curiosi per cui non non tutti non tutti i mesi come come quando si svolgeva insomma però due tre quattro volte all'anno venivamo a vedere questo mercalibro e io a quei tempi insegnavo alla scuola professionale di trevano e siccome mi piaceva portare in gita scolastica i miei ragazzi alla fine dell'anno ma soldi gli apprendisti o ne avevano pochi o facevano fatica a spenderli per magari qualcosa di culturale allora proposi una volta di fare una raccolta di libri in tutta la scuola e poi ho organizzato la classe in maniera che c'erano quelli che li smistavano quelli che li pulivano quelli che li organizzavano quelli che decidevano i prezzi e così facendo abbiamo organizzato parlato con freddi e da lì ecco cominciato la mia esperienza diciamo per tre o quattro cinque volte sono venuto con i ragazzi delle mie classi e mi ricordo ancora adesso sono quasi emozionato a raccontarla un anno avevo dei giovani disoccupati ho fatto questo con loro no perché li stavo seguendo per un programma nuovo del dipartimento e questi ragazzi facevano dei programmi corti quindi non si parlava di gita scolastica e con loro abbiamo fatto beneficenza cioè con quello che abbiamo raccolto abbiamo fatto beneficenza e uno di questi ragazzi che tra l'altro ha avuto anche esperienze in carcere purtroppo mi ha scritto la fine di questa esperienza mi ha scritto una lettera veramente strappa lacrime che gli sembrava di per la prima volta nella vita di aver fatto qualcosa di utile ecco questo per 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 dire poi boh abbiamo cominciato con mia moglie che oltretutto lei anche appassionata di diciamo di antiquariato del legno di questa di questa un po' anche parte molto interessante delle cose del passato e per cui ci siamo messi a fare qualche mercatino dell'antiquariato e questo del libro non l'abbiamo più lasciato praticamente infatti siete sempre presenti no vi avete anche un po' una postazione fissa dove vi può trovare la gente sì di solito siamo proprio lì vicino al bar cervo così quando fa più freddo riusciamo anche a tirarci al riparo di solito abbandoniamo il mercatino solo al i due mesi estivi perché abbiamo una casa in montagna e di solito stiamo su tranquilli la fa più fresco giusto bene quindi è interessante il fatto che mi pare di aver capito prima come clienti come avventori del mercalibro poi c'è stato questo questo spazio in cui c'erano anche dei progetti molto nobili non quelli che hai che hai citato e poi si è proprio è continuata questa questa passione no questo questo banchetto è stato mantenuto e quindi da una parte all'altro del banco si è passati no che effetto fa forse anche cambiare e cambiare l'atto del banchetto ma io devo dire che mi divertivo prima come mi diverto ancora adesso quando entro in qualsiasi libreria o in qualsiasi mercatino dell'usato dell'antiquariato e però dall'altra parte mi diverte molto il contatto con la gente soprattutto poi per quel che riguarda magari lo scambio su 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 libri che si sono letti in comune oppure io oltretutto sono un collezionista di fumetti per cui grazie al mercatino trovato un sacco di non mi piace parlare di clienti cioè sono proprio degli appassionati che poi diversi di questi sono diventati addirittura degli amici dei dei colleghi con cui ci troviamo anche anche fuori durante la settimana o nel weekend o andiamo a visitare delle fiere assieme per cui diciamo in fondo se la passione la stessa non è che che in sé cambi molto non è come come avere un negozio secondo me è qualcosa di più di più ancora più sociale insomma bello quindi proprio come la passione che unisce che crea delle relazioni no poi per questo e grazie a questo bello molto bello avete dei generi particolari cambiate tutti i mesi come gestite l'offerta al pubblico allora sì abbiamo dei generi a cui siamo affezionati perché siamo i primi primi appassionati di questi potrei citare beh tutto quel che riguarda libri e documenti legati al ticino al nostro cantone che sono comunque ancora adesso i probabilmente i più ricercati anche a livello a livello dei visitatori del mercatino poi mia moglie lei è più appassionata di tutto quello che ai romanzi le varie collane più gettonate diciamo così e poi io ho soprattutto quel che riguarda fumetti e libri sportivi abbiamo notato che dopo ci sono le tattiche al mercatino anche lì dopo tanti anni comincia a imparare che bisogna un po' variare non bisogna sempre portare le stesse cose quando c'è il vento bisogna portare i libri più pesanti che hai sennò volano dappertutto sono tutti sono tutti dei trucchi delle tattiche che impari chiaro ecco sono pillole di saggezza che inviterei a chi vuol partecipare al mercatino insegnarsene e noi lo sappiamo in prima persona perché recentemente no c'è stata un'edizione ventosissima molte bancarelle in difficoltà ma anche col sorriso no rispetto al fatto che volavano letteralmente i libri in piazza la fornitura dei libri no un costante fornitura dei libri in tutti questi anni dove la trovate perché immagino che siate dei voraci lettori ma forse non basta sì beh questa è forse stata all'inizio una 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 delle prime fonti no perché avevamo tanti libri allora premessa io non butterei via un libro neanche se dopo una pagina capisco che non lo leggerei mai però non riesco a buttare via un libro per cui adesso ci sono le cabine ci sono i mercatini una volta quando sapevo che c'era qualcuno che non poteva o permetterseli oppure li portavo a scuola li lasciavo a dipendenza ovviamente dalle tematiche li portavo anche ai ragazzi o diciamo adesso adesso che tutti sanno cosa facciamo tanti ci portano un sacco quasi troppa roba per cui quando ci telefonano per esempio allora il decalogo è no enciclopedie no no libri diciamo che vanno a pezzi eccetera eccetera per cui abbiamo dovuto anche un po deciderci perché abbiamo una lavanderia già abbastanza strapiena e un garage che 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 straboccava finché mio figlio in certo punto ha detto e no almeno la moto devo devo poterla mettere in garage tra un libro e l'altro tra un libro e l'altro perché poi sì cerchiamo di mantenere l'ordine con le classiche casse delle banane però il libro occupa posto e poi comunque sono anche pesanti poi da spostare però ecco principalmente sì un po la gente ci riporta un po gli scambi un po a un certo punto fai qualcosa elimini sempre da quello che hai nella tua collezione o tra i tuoi libri bene anche il fatto che si sia creata una rete no soprattutto nei primitempi probabilmente quando era interessante avere delle persone che veramente contribuivano alla vostra fornitura sì anche perché scusa quello che volevo aggiungere che il mercatino è un un esempio straordinario di di del riciclare la carta del riciclare questo 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 bene perché in fondo il libro è veramente un bene culturale che come dicevo prima magari anche il libro che a te assolutamente non dice niente trova l'appassionato trova il curioso mi è capitato di di trovare dei libri non dico rari però che magari uno cercava proprio per una sua tesi o per il suo lavoro per la sua professione per cui ecco c'è sempre qualcuno per un libro e un libro per qualcuno insomma esattamente esattamente visto che sono veramente tanti anni che voi presenziate al mercatibro c'è un'edizione che per quello che è successo magari un qualcosa di divertente di particolare che ti torna in mente ti sovviene adesso beh sicuramente l'anedotto che ho raccontato prima è una cosa che non dimenticherò mai però con con freddi abbiamo passato delle delle a volte dei bei mercoledì in compagnia perché poi lui animava invitava suonatori invitava per cui questo faceva allegria ci si è creato un gran bel rapporto anche con altri espositori poi buono sì ci si ricorda quando prima parlavo del parlavo del vento io ho visto un edizione in quel mercatino proprio con con una specie di tornado e oltretutto erano accese anche le fontane ho visto libri ho visto un grammofono perché c'era un tipo che vendeva dischi con un avevo un grammofono ho visto un grammofono che è volato nella fontana era una cosa veramente biblica direi e poi boh anche le edizioni quando quando piove quando è brutto tempo che di solito si tengono sotto il porticato lì davanti al municipio anche quelle sono particolari perché passa un sacco di gente che non sa cos'è il mercatino o stranieri o addirittura io mi ricordo che un giapponese in inglese mi ha chiesto se avessi qualcosa in giapponese e io avevo dei manga ma in italiano e però me ne ha comprato uno perché non ha mai avuto un manga in italiano e coincidenze quel giorno pioveva e c'era una ragione sì sì forse sì perché lo ricordiamo il mercalibro si fa con ogni meteo ogni condizione meteo non impedisce al mercalibro di esistere ed esserci un'ultima cosa direi in conclusione c'è un messaggio bene ai dati tanti no bellissimi dal fatto che appunto il mercatino del libro in questo caso crea relazioni piuttosto che sono occasioni per lo citavi prima finanziare dei progetti ma anche per dare soddisfazione alle persone stesse di sentirsi parte di qualcosa c'è un messaggio rispetto ai libri che ti senti di dare a chi ci ascolta in particolare no dovessimo dire qual è la missione questa passione vabbè il primo messaggio è quello di dire a chi può a chi può prima di tutto che ha dei pomeriggi liberi o che ha l'occasione di passare ma non solo al mercalibro di visitare qualche mercatino di entrare in qualche negozio di libri antichi ha un suo fascino insomma è una cosa che io trovo che una volta nella vita bisogna farlo poi per quanto ovviamente riguarda i libri si potrebbero citare un sacco di scrittori di poetiche che hanno scritto delle frasi eccezionali ma siccome proprio per il problema di memoria non sono non sono il tipo che lo fa volentieri perché rischio di sbagliare persona e citazione però mi ricordo che qualcuno disse noi in fondo la nostra vita si svolge in fondo anche sulle storie che abbiamo ascoltato noi siamo siamo le storie che abbiamo ascoltato e mi ricordo che un po' più in là sempre questo scrittore diceva io quando sono a pezzi quando mi sento a pezzi cerco un racconto che mi piaccia e lo leggo e sto subito meglio e trovo che sono dei piccoli messaggi che si trovano tante volte in tanti libri io ho un sacco di libri dove ho sottolineato magari una frase che poi non mi è mai servita nella vita però in quel momento mi è fatto bene fantastico io a queste tue citazioni non aggiungo altro perché veramente mi sembra bellissimo terminare così ti ringrazio i nostri saluti anche a giovanna assolutamente e noi avremo modo di rincontrarci il mercalibro certo grazie è stato un piacere ancora grazie a te e aspettiamo anche voi alle nostre prossime edizioni del mercalibro e vi invitiamo a seguire la nostra prossima puntata di leggermente grazie arrivederci grazie a tutti